Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 1052 di One Piece. Spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Questo capitolo semplice e divertente in realtà nasconde tantissimi spunti di riflessione che riguardano ovviamente il futuro di quest'opera. Cercherò di approfondire solo le parti più importanti e proverò ovviamente a teorizzare al meglio delle mie capacità. Ma naturalmente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Gente, se vi piacciono questi contenuti non esitate ad iscrivervi, vi basta fare un semplice click. Vi ringrazio. Parlando velocemente della mini avventura dedicata a Egerma, a quanto pare Oda ha voluto mostrarci Caesar Clown. Infatti l'ultima volta che l'avevamo visto era proprio a Wall Cake, quindi ora probabilmente se ne andrà con Egerma e si ricongiungerà con un suo vecchio collega di lavori, ossia Giagi. Si fa sempre più interessante e curiosa questa mini avventura, molto più bella di quella di Capone, ma a mani bassissime. Vediamo cosa accadrà. Parlando invece del capitolo 1052, l'inizio è un po' scoppiettante, infatti si ritorna a Marijoa e come potevamo immaginare il CP0 che era fuggito ha rivelato tutto ai Gorosei. Ma quest'ultimi però non riusciranno ad insabbiare tutto, soprattutto il discorso della caduta dei due imperatori. Forse l'informazione di Nika sì, quella potrebbero insabbiarla, per ora. E' interessante anche ciò che dicono i Gorosei, cioè Nika è apparso in questo mondo. Che significherà tale frase? Forse in passato è realmente esistita una divinità di nome Nika e che forse viveva in un altro mondo? Oppure dicono mondo per sottointendere Era, cioè quindi Nika è apparso anche in quest'Era. E infatti, da come abbiamo saputo, il frutto Gom Gom, anzi no, lo zoan mitologico Ito Ito, modello Nika, non si risvegliava da secoli, da ben 800 anni. Cioè l'ultima volta che qualcuno ha risvegliato questo frutto lo ha fatto durante i cento anni del grande vuoto. E questo qualcuno ovviamente è Joy Boy. Però dobbiamo ancora capire meglio come funzionano i frutti del diavolo e come si sono creati. Ma tornando al 1052, la seconda cosa che dicono i cinque anziani è che la caduta dei due imperatori si diffonderà in fretta e sarà impossibile insabbiarla. Inoltre aggiungono, che pessimo tempismo, domandandosi sul da farsi dopo questa gigantesca notizia. Ma io vorrei concentrarmi sulla frase, che pessimo tempismo. Perché hanno detto ciò? Due sono le ipotesi, secondo me. La prima è che il mondo già sta venendo colpito da svariati incidenti e questa gigantesca informazione porterebbe all'aumento di tali incidenti. La seconda ipotesi, invece, riguarda un qualcosa che stavano per fare i Gorosei? Vi ricordo che volevano dare inizio ad una grande epurazione. Forse per colpa di questi grandi incidenti non riusciranno nell'intento, perché devono insabbiare delle informazioni, devono cercare di mantenere ancora l'equilibrio e quindi questa epurazione non potrà avvenire. Infine rimangono altre tre questioni che riguardano proprio queste prime pagine. La prima è su Zunisha. Infatti il gigantesco elefante se n'è andato ed un Gorosei ha affermato che non hanno aperto Wano. Ciò implica che l'elefante era importante per questa cosa. E non solo, dicono anche che l'isola dei samurai continuerà ad essere una fortezza e che qualcuno di intelligente ha pensato di non aprire il paese e così facendo loro non potranno conquistarlo. Quindi, a rigor di logica, Zunisha serviva per aprire geograficamente Wano al mondo e quest'ultima è stata probabilmente spostata dal suo luogo originale a questo qui, in cima a questo vulcano, così da rendere inaccessibile il luogo. Quindi la mia ipotesi che Wano potesse essere stata in passato un pezzo dell'antico regno non è poi così campata per aria, ma rimangono sempre delle teorie per ora. Inoltre abbiamo scoperto che Momonosuke è stato un genio a decidere di non aprire il suo paese, quindi tanto di cappello per il nuovo Shogun. Ma concludendo la parte iniziale, il governo è ancora intenzionato a catturare Robin e il CP0 afferma che ci riusciranno, ma dell'archeologa ne parleremo più avanti. Comunque sia, il discorso tra il CP0 e i Gorosei viene interrotto da qualcuno, che afferma di stare arrivando lì, e questo qualcuno sa che gli agenti segreti sono lì a Wano. Probabilmente è quella persona che vediamo alla fine del capitolo, ma ne parleremo dopo. E continuando, mentre Wano festeggia il ritorno dei Kozuki, scopriamo finalmente di chi era quell'1% di possibilità di sopravvivere, e alla fine non era né Rufi, né Kaido né Drake, ricordando che la Toya aveva detto che fosse il capitano della SWORD, quindi un'altra cosa sbagliata. Gente, l'anime inserisce un po' troppe inesattezze. Io vi consiglio sempre di leggere il manga e di guardare l'anime solo per i combattimenti fighi. A parte ciò, alla fine si trattava dello stesso Hawkins, ed infatti, quando lo rivela, la supernova muore, mentre Drake invece sembrerebbe essere ancora vivo. Quindi, anche il frutto della supernova di Paya si è reincarnato. Chissà se lo rivedremo in futuro, ma tralasciando questa cosa, nel paese di Wano passano sette giorni, e il tutto, pian piano, torna alla normalità. L'acqua viene data al popolo gratuitamente, la fattoria, quella pulita, viene usata per sfamare l'intero popolo, o almeno finché il tutto non ritorni agli antichi splendori. E nelle scuole finalmente viene rivelata la vera storia di quel paese, e vengono rivelate anche le vere identità di Komurasaki e Kyoshiro. Cioè, tutte cose che sapevamo che sarebbero successe. Ma la cosa bella è che qualcuno ha messo in giro una notizia che Kaido è stato sconfitto da un tizio che si chiama Joy Boy, e non Rufi. Penso che questa informazione sia stata creata per non rivelare ai cittadini di Wano che è stato un pirata a liberarli, e non solo, forse anche un indizio per far capire che Joy Boy è finalmente tornato. Comunque sia, vediamo la tomba di Ryuma, dove i foderi rossi vorrebbero costruire un tempio per Oden, nonché attorno ad esso dei templi per tutti i daimyo che si sono sacrificati per il paese, e lo stesso faranno per Ashura Doji e Izo, che sono realmente morti. Io di Ashura me l'aspettavo, ma di Izo no. Speravo che Oda lo facesse ricongiugere a Kiku, invece ha deciso di farlo morire. E ho trovato anche molto triste ciò che dice Marco, ossia che anche questa volta è riuscito a sopravvivere. Infatti la Fenice è riuscita sempre a sopravvivere, ogni volta in ogni guerra. Lui ne esce illeso, se così vogliamo dire. Sicuramente è anche merito dello zone mitologico che possiede, ma chissà se questa sua frase ci fa forse intendere che in futuro possa realmente morire? A parte ciò, Rufio e Zoro si sono ripresi, e non riconoscono Momonosuke, e ci sta come cosa. Ma Oda, in tutte le gag che ha inserito con il Kozuki, il fatto del calcio in volo di Yori o la gag con Nami, ci ha fatto capire che Momo non sente alcun dolore, e qui capiamo perfettamente la didascalia dello scorso capitolo, cioè che diventerà il più grande shogun di Wano, sia a livello politico, come hanno detto gli astri, solo un genio poteva pensare di non aprire Wano, e sia a livello combattivo, dato che ora ha un corpo potentissimo, come se avesse ereditato il corpo del padre, e anche Yamato conferma tutto ciò che ho detto. Inoltre, rivediamo la gag di Sanji e Zoro, e mi è piaciuta la frase dello spadaccino che dice sono tornato dagli inferi per ucciderti, quindi qui si conferma che quella cosa che aveva visto Zoro era proprio la morte, il tutto ovviamente è successo nell'inconsciono dello spadaccino. Inoltre qui dobbiamo aprire una parentesi che riguardano Kiku e Yamato, infatti due vanno nelle terme dei loro generi opposti, per Kiku lo sapevamo, dentro di sé ha sempre saputo di essere una donna, nonostante fuori non lo sia, quindi ci sta. Invece con Yamato io ho sempre pensato che si sentisse solo Oden, e non un uomo a tutti gli effetti, ma essendo andata, anzi penso che ora devo usare il maschile per la parola di Kaido, quindi essendo andato con gli uomini nelle terme, penso che Oda ci abbia dato una risposta alquanto lineare ed esplicita, quindi da oggi in poi darò del lui a Yamato. Io l'avevo detto, finché Oda non avrebbe confermato questa cosa, io gli avrei dato sempre del lei, ma ora sembrerebbe essere confermata. Chiuso a parentesi. Comunque sia la festa di fine saga inizia, e mentre tutti festeggiano, nel porto di Udon, Franky ed Usopp hanno sistemato la Sunny e ricostruito lo Shogun. Però la scena cambia drasticamente, dato che viene introdotto il discorso delle nuove taglie dei pirati che sono stati presenti a Wano, e che hanno contribuito alla caduta dei due imperatori. Ed è proprio Apu a portare il giornale, insieme al suo fidato amico Inbi. Infatti, come sapevamo, è stata la supernova musicista a rivelare le informazioni a Morgans, nonostante il paese sia chiuso al mondo. Ma a parte le taglie, sul giornale ci sono scritti anche i nomi dei nuovi imperatori. Allora, sulle taglie ho fatto ben due video al riguardo, e ve in descrizione. E per quanto riguarda i nuovi imperatori, ne ho parlato nel secondo video sulle taglie, dove dicevo che anche Lo e Kid sarebbero diventati imperatori. Ma sarebbe una bellissima gag se anche Apu diventasse un imperatore, prendendosi anche gli emeriti per aver sconfitto Kaido e Big Mom. Per quanto ne sappiamo, poteva dire quello che voleva Morgans. Non succede, ma se succede riderei tantissimo. Quindi, stando a ciò, sappiamo che nel 1053 verranno rivelate queste informazioni contenute in quel giornale. Ma passando alla fine, vediamo una strana ombra che vola nei pressi di Wano, a tipo Ispettori Gadget, e quest'ultimo non è altri che Toro Verde. E il capitolo finisce qui. Parlando subito del finale, notiamo benissimo che dalla schiena dell'ammiraglio verde spunta una pianta che gli permette di volare. Io vi dico che nel 2017 feci una teoria su Toro Verde e ipotizzai che avessi appunto un frutto del diavolo legato alla natura. Vi ricordo che il video è stato fatto prima del suo discorso a Mari Joa. Vi lascio il video sulle schede e in descrizione. Comunque, che vuole fare Toro Verde? Secondo me è lui che ha interferito nella chiamata tra CP0 e Gorosei, e sta lì per due cose probabilmente. Catturare Nico Robin o riprendersi Drake, ma spero anche in qualcosa di più grosso. E parlando invece dell'archeologa, avete notato che Oda non l'ha mostrata? Naturalmente il discorso tra CP0 e Gorosei ci fa pensare male. Ma io credo e spero che stia leggendo i Ponegriff. Comunque sia, nel prossimo capitolo scopriremo un bel po' di cose e sarà sicuramente una bomba. Wano si concluderà, arriverà la pausa di un mese ed Oda sa bene come lasciarci in sospeso.